Siamo in onda? Ci siamo, ci siamo. Ma davvero, anche oggi ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti sempre con il nostro consueto ritardo, perché vedo che... È normale, ma non si può chiedere a un artista la puntualità, insomma. Non riusciamo. Vediamo se qualcuno si è inserito, sta osservando questa diretta. Tu ti sei connesso? Sì, io mi sono connesso. È arrivata una notifica, qualcosa. È arrivata, ecco, sì. Ok, vediamo, aspettiamo che qualcuno si connetta, altrimenti continuiamo a parlare gli altri. Sì, chiacchieriamo, tanto se fanno due... Ah, abbiamo le prime connessioni. Ok. Ah, tra l'altro ci stanno chiedendo una richiesta di partecipazione, vogliamo osare, perché io tra l'altro... Sandrone, tu conosci? Non conosco Sandrone. Allora, possiamo anche osare e vediamo l'altro che esce fuori, eh. Vediamo che esce fuori con Sandrone. C'è una partecipazione, una richiesta di partecipazione di Sandrone. Io non so se conosco Sandrone, perché in questo momento non riesco nemmeno a leggere bene. Vediamo, visualizziamo la richiesta, iniziamo in un modo... Allora, Sandrone. Non mi abbandonare, è sparita, vedi? Ora partecipa. Saluta. Io qui che faccio? Sandrone, vediamo. Allora, Alessandro. Vediamo un po'. Ho provato a chiedere, a fare una richiesta... Ah, ha rifiutato. Allora, forse c'è stato un malinteso. Un misunderstanding. Forse mi ha spinto solamente per partecipare, per osservare. Però chiunque di voi vuole inserirsi per discorrere di voietia e tutto quanto. Noi siamo qui, io alzo anche un attimo il volume, scusate. Siamo un po' ancora impacciati. Prenderemo la mano, assolutamente sì, dovremo anche spiegare. Dei corsi. Allora, spieghiamo nuovamente cosa facciamo qui, tra l'altro, al Miralago, con il solito sfondo meraviglioso del nostro ombrellone che ci fa sempre tanta compagnia e il lampione. Stiamo valutando anche l'idea di cambiare location, o meglio, non bar, ma cambiare disposizione perché qui passano le macchine e quindi qualcuno si lamenta perché dice che non si riesce a sentire. E dice che c'è questo fastidioso rumore. Poi c'è sempre la stessa Clio che passa, quindi insomma, penso sia, quello che lo fa apposta. Comunque, bando alle macchine, bando alle ciance, siamo qui per manifestare questa poesia in tutte le sue forme attraverso la tecnologia. Quindi abbiamo deciso con Umberto tramite, per adesso, un canale Instagram, anche se qualcuno ci ha consigliato anche di proporlo in altre situazioni. Assolutamente, è stata richiesta quasi una pagina Facebook. Poi devo dire, dalla costituzione della nostra pagina Instagram, nel profilo Instagram, abbiamo ricevuto un buon feedback da amici, conoscenti, ma anche da persone che nessuno dei due conosceva, che si sono volute approcciare con questa nostra iniziativa che abbiamo preso nell'ultima settimana, poi, è stata martedì la prima diretta. Tutto molto in fretta, ecco, però. Sì, estremamente steppuraneo. Quindi vi consigliamo, se volete sbirciare le dirette precedenti che abbiamo fatto già, che giorni erano? Martedì e mercoledì, vi consiglio per il primo video, per motivi di taglio che non abbiamo voluto operare, il link è in bio alla pagina Instagram, e per il secondo video è inserito nell'IGTV, giusto? Però spieghiamo il nome, diciamo il nome di questo profilo, perché il profilo, vai, caffè poetico. Cattino, basso, poetico. Poetico. Quindi, chi vuole può vedere già qualche materiale che abbiamo inserito, e sicuramente nel momento in cui ci saranno vari ospiti, secondo me sarebbe anche opportuno mettere qualche informazione su tutte le persone che si stanno inserendo man mano in questo contesto. Provvederemo nel fine settimana a inserire una foto significativa di ogni ospite che abbiamo avuto fino ad oggi, con un riassunto di quello che è stato detto, e magari l'inserimento di qualche poesia, di qualche racconto che ci hanno voluto comunicare e condividere. Sì, c'è stata qui la scorsa, non la scorsa settimana, ma scusate, vabbè, pochi giorni fa Beatrice, Beatrice che ha letto con noi alcuni suoi testi, poi c'è stato anche Luca che si è inserito proprio nella diretta, e oggi avremo un altro ospite. Davvero? Avremo Alessandro, che è un mio amico, poi vi parlerò, penso, tra circa un quarto d'ora, venti minuti, si connetterà tramite Instagram, e vi ricordiamo che questo strumento di Instagram ci sta consentendo non solo di promuovere la poesia, ma anche nel caso di Umberto, vabbè, lui sta scrivendo, sta ultimando il suo romanzo, quindi attenzione, io ancora, c'è quel filo di mistero, ancora non ho capito bene di che tratta questo romanzo. Un piccolo accenno, se lo vuoi dare? Beh sì, un piccolo accenno, parla di questa storia, di questo uomo che vive un profondo conflitto interiore, per scelte di vita che si è autoimposto, un po' come un cilicio, insomma, ha deciso di abbandonare quelle che erano le sue aspirazioni artistiche per continuare in un'attività lavorativa familiare. Lui riesce con grande successo, con grandi fortune in questa attività, diventa un imprenditore a tutto tondo, molto particolare nel suo modo di fare, ma con grande riuscita, a grande prezzo però di quello che è il sacrificio di una vita sentimentale che sempre vacilla, traballa e si chiude in un baratro di devastazione interiore fondamentalmente. Diciamo che in questo momento siamo nel pieno svolgimento di questo romanzo, la trama mi è perfettamente chiara, anche se si aggiungono sempre particolari che vanno ad arricchire questo viaggio, perché poi fondamentalmente è un viaggio di questo personaggio e della co-protagonista. Quindi è già da un po' di tempo che ci stai lavorando e sei infatti quasi di una fisura di questo romanzo. Sì, sì, diciamo che stiamo a un buon giro di boa, insomma. Manca la parte più importante che è quella poi della trascrizione, perché ragazzi lui scrive con una magnifica penna, un po' quel mondo artico di una volta dove ancora esiste un inchiostro, una carta da toccare e quindi poi ci sarà un lavoro anche di video. di trascrizione importante che già sto operando, che mi toglie abbastanza tempo, perché la mia grafia è molto condensata. Quindi non puoi nemmeno affidarlo a terze persone. No, assolutamente. Ok, vediamo intanto qualcuno di voi che sta scrivendo, che sta partecipando. Oh, wow, ma anche Mauro! Mauro lo dobbiamo invitare a questa diretta, perché Mauro, anche lui è grande buonanità, artista, attore, ci siamo incontrati in diversi contesti. Quindi, quindi, Mauro, quando vuoi, mi ricordo ancora il reading poetico che fece ad Albano, andai a sentirlo, e veramente sono rimasta molto emozionata, quindi spero di avere l'occasione di discorrere con lui sulla poesia. Mauro, facci un colpo, facci sentire, allora. Sandrone, meglio commentare, quando vuoi puoi scrivere nei commenti, senza nessun problema, noi leggeremo e aggiorneremo anche le altre persone che ci stanno seguendo. Wow, tra l'altro c'è anche Marcus, Marcus, brasiliano, un attore che ho conosciuto al Teatro Pop. È un teatro sperimentale a Fara in Sabina, dove feci un percorso molto impegnativo e Marcus ci siamo incrociati in tante situazioni, durante le prove, durante il FLIT, che è questo festival internazionale, che si svolge ogni anno sempre a Fara Sabina. E speriamo, speriamo di incontrarci presto, Marcus. Poi vediamo chi c'è, vediamo. Aschic, belli, ciao ragazzi, loro sono miei allievi, allievi di corsi di recitazione. Poi, vediamo, effetto, è già fatto un casino perché ho spinto non so che cosa, mi aiuti, effetto. Allora, tante persone si stanno inserendo, poi, ciao carissima. Ciao a tutti ragazzi, prendiamo, continuiamo questo flusso poetico, non ci perdiamo qui. Assolutamente, io direi di entrare in piena fase. Piena fase? Voi che ci state osservando, se volete introdurvi a leggere qualche poesia o avete qualche domanda particolare da leggere a me o a Umberto, siamo qui, quindi anche voi cerchiamo di rendere attiva questa partecipazione. Allora, Umberto, che hai portato oggi? Allora, oggi ho portato il mio consueto pardello. Stile femminile, ragazzi, guardate un po' questo raccorditore. Parecchio tempo, ormai, un po' rovinato. Mentre ci sono le alberne opportune, è molto bello, mi è piaciuto. Io poi sono amante di quadernini, tacquini, cose varie. Ne ho tanti anch'io, insomma, il mio quadernino personale degli appunti, eccolo qua. Come al solito non siamo preparati perché, vedi, io ho portato il tuo oggi. Qui abbiamo i tre fascicoli dove sono raccolte le mie fatiche, probabilmente del romanzo. E soprattutto abbiamo la raccolta di poesie che ci risulta sempre utile con il tacquino di provenienza che sono state trascritte in prima parte. Quindi, insomma, è sempre una mania la mia di scrivere a mano 300 fatiche per giungere a nulla. Allora, io intanto sto spulciando tra i miei testi. Tra i troi appunti. Tra i miei appunti. Allora, potremo cominciare. Cominciamo dalla fine, a questo punto, io direi oggi. Che tema vogliamo... Allora, io oggi mi sento ispirata più che a proprio una poesia sintetica, come abbiamo fatto la scorsa volta. Oggi mi sento di proporre un testo che è stato un testo di apertura durante il mio spettacolo. Abbiamo una richiesta di partecipazione di Fabio Galati. Ah, wow! Che cosa facciamo? Se non è sbagliato pure Fabio. E visualizziamo questa richiesta. Trasmettiamo in diretta con Fabio Galati. Perché è audace Fabio. Fabio è una persona che ci mette la faccia. Giusto, Fabio? Non ti tirare indietro. Parlaci di poesia, perché tra l'altro... Ecco Fabio! Grazie a tutti. Ma non volevo questo io. Fotografo! Fisolinista, quanto vedo. No, ma io non volevo questo. Io volevo solo vederlo. Non volevo fare questa cosa. Ma visto che ci siamo... Se abbiamo l'istinto e quello che è successo, perché se sei qui c'è un motivo, ricordaci di parte, perché Fabio è un grandissimo artista fotografo. Ma non è così, dai. Lui racconta attraverso le immagini, perché questa non è poesia. Eh, beh. Comunque, Fabio, visto che ci sei, puoi scegliere. E se continuare a inserirti ancora nel contesto della diretta, oppure se esci, noi continuiamo a leggere questo testo. No, no, fate tranquilli. Io non volevo fare questo. Quindi fate tranquilli. Volevo solo ascoltare. Non so capace di usarlo Instagram su questo. Io pensavo che partiamo... La direzione è la stessa. Quindi dobbiamo fare tutti e tre mesi a un bel corso su Instagram. Quindi, Fabio, come si fa a far uscire Fabio? Esci te, Fabio. Come facciamo esci, Fabio? Esco. Diti, diboditi... Buh. Vediamo. Dibidi, bohidi, macin buh. Ok, via. Siamo tornati alle origini. Dove... Sì, ci sono persone che entrano, che escono. Quindi dobbiamo cercare di tenere un ritmo alto. Sì, sì, assolutamente. Perdiamo l'attenzione dei nostri poteri. Noi non vogliamo questo. Quindi io bene ti esorterei a raccontarci qualcosa oggi. Allora... A narrarci qualcosa in questo meraviglioso viaggio che abbiamo cominciato. Apro questo incontro poetico, questo caffè poetico, con un monologo scritto da me quest'estate, dove ho cercato di incarnare la poesia. Quindi è un po' una sorpresa. Dovrò leggerla perché la memoria adesso, oggi, non ho avuto tempo di rivedere, quindi vado un po' così leggendo. Sono la poesia degli innamorati, dei sognatori. Sono la poesia che si racconta ai bambini prima di andare a dormire. Quella a lieto fine. Quella delle fiabbe in cui un principe o una principessa vengono a salvarti. Sono la poesia scritta di getto, così, all'improvviso, quando sei così pieno d'amore che allora decidi di scrivere. Sono la poesia che profuma di fiori freschi, di primavera. Quella che ascolti distesa a terra mentre insegui le nuvole e senti la loro stessa leggerezza. Sono la poesia tenera, delicata, che sa di bucato e di panni stese. La poesia dell'acqua che scorre e la riga le rocce. Quella dei colori che riescono a fondersi, perdersi, ritrovarsi. Sono il desiderio che esprimi soffiando le candeline sulla torta. E sono il soffione raccolto sul prato che tieni tra le mani e chiudendo gli occhi fai volare tutti i suoi pelli. Io sono la poesia delle nonne, dei biscotti appena sfornati, della pasta fatta in casa, del pranzo e della domenica. E sono la poesia materna, quella di ogni mamma che immagina già il suo bambino. E io sono la poesia antica, degli amori autentici, degli amori impossibili, pronti a sfidare il destino. Degli amanti che scappano per baciarsi nei boschi nel buio dopo aver camminato chilometri e chilometri. Beh, io sono la poesia di una volta. Di quelle cantate sotto ai balconi, accompagnata da una chitarra e un bicchiere di vino. La poesia sincera, delle amiche che si prendono per mano e non mollano la presa. E poi sono la poesia delle panchine, dei parcheggi e dei motorini. Quando mi nascondevo anche lì, tra il fumo della sigaretta e il sudore, dopo una partita di pallone. Sono la poesia della scuola, della ricreazione, dei panini al latte, della pizzicata, della libertà. Ma io non ci ho appongiorata. Non ci ricordi quando ci siamo visti la prima volta? Forse hai cominciato a riconoscermi quando ti alzavi in piedi sulla sedia e tutti erano lì a guardarti. Beh, ti vergognavi un po', si eri rimpacciato mentre cercavi di capire che fosse. Ma tu recitavi le mie poesie. Non ti ricordi tutte le recite che abbiamo fatto insieme. Sai, quando ti interrogavano il lunedì mattina, ti dimenticavi ogni tanto di me. Forse perché il giorno prima avevi altri impegni più importanti. E ti sei dimenticato dei compleanni. No, del Natale, della festa di San Valentino. Dai, magari la festa di San Valentino ti ricordi. Mi hai comprato i fiori, i baci perugina. Poi certo, sei cresciuto e mi hai guardato con occhi diversi. Non scriveti più allo stesso modo. Hai cominciato a scrivere lettere. Una calligrafia più matura. Parole scelte e a volte ponderate. E dove sono ora? Mi pensi ancora? Anche se ora sei grande. Riconoscimi dentro una canzone, durante uno spettacolo, mentre ti accarezzano, ti baciano. E anche se i tempi sono cambiati, non essere dura. Io sono romantica. E lo sai anche tu. Ho fatto dei tagli istantanei. Non so qual è stata la riuscita. Questo era un po' per riprendere il concetto che non bisogna dimenticarsi della poesia. Perché in fondo ha sempre fatto parte di noi, anche inconsapevolmente. Magari l'approccio nel passato era diverso. Perché quando eravamo piccoli, questo penso che forse condivideranno anche tutti coloro che ci ascoltano. Magari a scuola studiavi la poesia. Però era una questione di ritmo, no? Assolutamente. Quindi poi il contenuto andava un po' così disperso. Non ci dimentichiamo della poesia, perché la poesia sta ovunque. Guardando negli occhi una persona, guardando un panorama. Forse sono diventata troppo romantica. Oggi sono romantica. Oggi sono romantica. Oggi mi sono parlato, mi sono svegliato in maniera terribile. Quindi potrei parlarvi benissimo. Ma era la meravigliosa della morte. Oggi sono bella sprint. Perché tra la troia di Fabio scrive Wow, bello, ma tu l'hai ascoltata, no? Questa dal vivo. Stai barando Fabio, stai barando. Questo monologo. Quindi l'arte è dappertutto. Non ci dimentichiamo della poesia. E nemmeno di quella di Uberto. Non me la voglio dimenticare questa. Infatti riscriviamoli dopo sul video. Assolutamente. Non ho che le mani a tessere il destino. Un'ombra su un foglio a macchiare il vigore dell'inchiostro. Fragile figlio di una notte incombente. Sorta tra le fiamme. Morta tra le cene. Dondolio senza fulcro che ne fermi il viaggio. Senza ritorno. Osservo il canto del mondo. Sapere di nulla memoria. Freno la corsa del balzo. Sono sostanza terrena. Gabbia di cosa. Celeste. Abbivio dell'elevazione. Un astro di altra materia. Incolto da sguardi di vetro. Come può esistere splendere. A occhi ciechi all'epoca. Vago. Premo. Ringlio. Scostanza mia unica fede. Fortezza nel solo esistere. Affranare nell'immobilismo. Non ho che le mani. A tessere il destino. Parola di vuoto corredo. Nell'ombra del tempo che fuggi. Siedo al singulto del sole. Senza speranza alcuna. Dimentico ogni sussurro. Vivo il fato in frammenti. Posando da me il mosaico. Non ho sempre scontato dire un wow. Però mi rimango sempre molto affascinata. Anche dallo stile personale che ci appartiene. Assolutamente. Siamo artisti di due lati completamente diversi. Ma poi ci ritroviamo sempre in termone. Sicuramente è una grandissima celebrazione della vita. Tutte le sue sfumature. Tutto quello che è il mondo felice. Dei ricordi. Della familiarità. Io dal mio piccolo cantuccio di oscurità. Vedo e celebro il mondo in quello che è il suo fatalismo. E cerco di rappresentarlo. C'è sempre una punta di speranza che va trovata sotto. Ok? L'inchiostro delle parole. Però esiste. Nonostante i toni più cubi. Quindi la tua penna sembra apparentemente terra. Un po' misteriosa. Però in realtà non ci siamo dimenticati anche della speranza. Assolutamente. Anche perché dove c'è vita c'è anche la morte. Ma soprattutto la morte esiste perché c'è vita. E entrambe le cose sono... Come luce e buio, no? Un po' il stesso concetto. Diciamo che ci sono fondamentalmente due filoni per parlare della morte, ad esempio. Quella di parlare continuamente. No, no, giustamente la morte fa parte di noi e l'intelligenza sta nell'accoglio, per non capire che tanto. Ma per dire, ci sono due fondamentali filoni, no? Parlare della morte sempre, continuamente per esorcizzarla. Come si faceva nel medioevo. Nel medioevo il rapporto con la morte era vivo tutti i giorni. La gente moriva in casa, molto giovane. Quindi tutti si assisteva al piccolo dramma familiare. Ma si partecipava perché erano gli ultimi momenti per stare con i propri cari. Se ne parlava spesso. Non sei capace? No, io sto ridendo, non perché sto sminuendo. Perché leggo i commenti nel frattempo. Perché Fabio scrive, ce l'hai un bello? Ce l'hai? Poi qua scrivono a belli Marco, Marco Beck, tuo amico forse, non lo so. Sì, 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 Marco Lino. Poi Camilla scrive stupenda. Poi si sono inserite anche ad altre persone. E poi c'è un altro modo di parlare della morte che è il nostro, ossia non parlarne. Quindi lasciarla completamente nascosta, proteggere tutti quelli che si devono proteggere. E credo che sia anche il modo più sbagliato. Perché poi si arriva totalmente impreparati a quella che è una grande catastrofe per noi. E invece forse parlandone di più e magari farci anche una risata sopra la morte. Accettazione. Sarebbe un'accettazione più serena di quella che è una cosa inevitabile, che fa parte del ciclo umano. Il pianista. Ah, sì, il pianista. Ok, sì, sì, sì. Adesso mi sto riconoscendo. Si è scomparso, si è trasferito. Si è trasferito in Botswana, Marco. Vero? Giusto? Ci ricordi della tua avventura? Marco. Tansania, Serengeti. E poi puoi ingerirti. Eh, quindi ricordatevi che questo non è il momento mio e di Umberto. Questo è un momento... Vostro e nostro. Connessione fra tutti, anzi, al di là di Instagram stiamo cercando di realizzare proprio nel concreto. Visto che tra l'altro è arrivata una bella notizia che anche nei teatri adesso... Finalmente. 100% può vedere, osservare, toccare... Purtroppo resta completamente abbandonato a se stesso. Al fondo dell'università, la capienza al 50%, spesso e volentieri la gente si connette tramite internet. C'è questa corribile ressa di persone... Allora, scusami, io ti interrompo sempre ma non lo faccio per andarti di contro perché sto leggendo che c'è un'altra richiesta di partecipazione di Paolo. Paolo che ci ha scritto anche sul profilo, ricordiamo, Caffè Poetico. È un profilo di Instagram che stiamo cercando di far crescere, quindi anzi, mi ci ascolta. Scusa Paolo, non ci eravamo resi conto. Direi sì, di far partecipare Paolo. Appena chiudiamo, chiuderemo poi con Paolo, andremo in diretta anche con Alessandro. Sì, assolutamente. Quindi, allora... Ti mandiamo subito, Paolo. Ok, ti abbiamo mandato l'invito, Paolo. L'hai chiesto. Appena ti arriva, accetta e sei online con noi. Andiamo un po', eh. I tempi forse sono... Eccoci! Buongiorno! Buongiorno! Piacere, non ci conosciamo dal vivo, ma sento che c'è una connessione poetica, giusto? Può essere, può essere. No, no, ma io vi seguo, vi seguo. Grazie mille. Volevo chiedervi, chi è quel tizio che vi sta alle spalle e che domina le vostre spalle? Ah, lui! Cos'è quella specie di monolite? È un monolite? Sì, sì, è un monolite, noi l'abbiamo messo lì, ricordo. Sì, purtroppo è una sfortunata coincidenza. Comunque io volevo proporvi, io ho scritto un libro un po' di tempo fa, non tanto tempo fa, l'anno scorso che si chiama Cauda Pavonis e che è un libro dedicato all'arte, nel quale commento anche alcune poesie. Potrebbe essere una cosa simpatica, magari una volta parlarne, se avete voglia. Assolutamente. Assolutamente sì, ci farebbe molto piacere. Sì, stiamo cercando infatti di organizzare. Così vi dico anche un po' cosa ne penso io della poesia, tra l'altro sto pubblicando un libricino di poesie e quindi avremo diverse cose da scambiare. Ottimo, ottimo. Noi non cerchiamo che il confronto, insomma, per crescere tutti quanti. Assolutamente, ma hai la possibilità anche di esserci fisicamente o abiti, diciamo... Fisicamente forse è un po' difficile, perché voi dove state? A Roma? Sì, diciamo al Banno, Castelli Romani. Io sto dalle parti di Milano, quindi un po' lontano, però magari si può fare una diretta, non so, come vi organizzate voi. Questo caffè acquatico potrebbe anche... Aprire come delle supporzali. Sì, assolutamente. Per cui ci muoviamo con Umberto e con il nostro team, andiamo in giro per l'Italia. Sarebbe anche un'evoluzione del foro. Poi io vengo anche volentieri, una volta a fare una visita, mi capita ogni tanto di venire a Roma, quindi magari ci possiamo organizzare così. Perfetto. Come no, come no. Paolo, non so se vorresti anche... ci stiamo dando del tu in maniera anche forse un po' errata, ma sicuramente più pratica. Volentieri. Con noi anche delle poesie, qualche scritto, qualche tua idea in merito a quello che è l'argomento poetico della letteratura a tutto tondo. Di leggervi qualche cosa? Allora, se preferisci, Paolo, organizzarci meglio, che sappiamo già quale sarà la tua giornata, possiamo anche organizzarci e fare un calendario e magari dedichiamo proprio uno spazio più ampio, io direi. Sì, io preferirei una cosa così. Ok. Siamo una chiacchierata un po' tutto tondo sull'argomento, vi dico un po' qual è la mia idea di poesia, eccetera. Mi sembra una buona opportunità. No, assolutamente. Noi l'accogliamo con piacere. Un appuntamento con Alessandro, che vi parlavo prima, è un piacere a breve di presentarvi Alessandro Nicolassi. E quindi con Alessandro a breve discorreremo sul concetto un po' della poetica sotto il suo punto di vista. e con Paolo ci scambiamo poi anche i contatti telefonici, in modo che decidiamo una giornata dedica anche a Paolo e ai suoi test. Ovviamente. Ok. Allora vi lascio sul contatto Instagram il mio numero di telefono, va bene? Grazie mille, gentilissimo Paolo. Ci ha fatto veramente, veramente tanto piacere. A me, a me. Piacere mio. Grazie mille. A presto allora. A presto. Grazie. Che bello. Scusi, faccio uscire, ma insomma uscirò. Sì, vedo che un po' tutti non siamo così. Sì, sì, abbiamo tutti difficoltà. Vediamo se riusciamo magari noi. C'è anche Camilla che ci sta guardando. Camilla, la prossima giornata sarà anche tua, eh, per discorrere di specie, di punti di vista, anche artistici. Paolo vedo che sta cercando di... Non è così semplice. Eh sì, non sembra, però è abbastanza legato. Allora, aspetta, proviamo a vedere qui dalle richieste. Allora, intanto io invidirei Alessandro, perché vedo che si è connesso. Siamo riusciti. E a breve, ecco, sono felice di ospitare, anzi siamo felici di ospitare, anche se Umberto non lo conosce. Beh, però, ci avremo tempo di conoscerci. Alessandro che, dal punto di vista umano, vabbè, io ero un po' grandissimo. Ciao ragazzi! Come state? Aspetta, metto meglio il telefono, si vedono meno le rughe, capito? Non sento bene, aspetta un attimo che sto... Allora, sto in radio, perché ho una radio. Mi sentite? Sì, sì, si sentiamo benissimo. Ok, quello è importante. Bella questa iniziativa della poesia, molto importante. Bella. Poi, vabbè, Benedetta, Beni la conosco benissimo, noi siamo proprio veramente molto legati sotto tanti punti di vista. A te non ti conosco, però c'è una faccetta simpatica, quindi... Alessandro, conto tutto su quella. Allora, Alessandro ha sentito un poetico sotto tante forme, perché Alessandro, non ci limitiamo a dire che scrive voi, Alessandro evolve, fai evolvere e divulga la sua... La pittura, ragazzi, Alessandro, raccontaci di te, perché adesso mi sento anche un po' in dovere di chiederti chi sei. Vabbè, insomma, in dovere di chiedermi chi sei è un po' difficile, non so poi se si arriva bene. Allora, io innanzitutto non sono niente, come non siamo niente nessuno, cioè nel senso che rientra anche nel pensiero di Carmelo Bene, che tu sai benissimo che amo. Quindi il fatto di fare e disfare nello stesso tempo, anche perché noi facciamo solo rumore. La poesia, se parliamo di poesia, per me la poesia è, dal punto di vista mio, è un qualcosa che ci aiuta a trovare i nostri errori, no? Cioè, a sistemarli. Cioè, è quasi il vecchio diario che si faceva, no? Che scrivevi, e tu rileggendoti riesci a migliorarti. Quindi, diciamo che è una sorta di autopsicanalisi, capito? La poesia. Per me, dal punto di vista mio. Il discorso simile lo feci due giorni fa, dove appunto mi ha detto che cos'è la poesia. Vedi, questa cosa non sapevo che avevamo così tanto in comune, Ale. Ma noi ci conosciamo da tanto. Eh, ci conosciamo da tanto. E poi io credo, credo che la poesia, anche perché è un po' come un quadro astratto, no? Sai, c'è benissimo l'astrattismo, non so se conoscete la corrente. Diciamo che in un quadro astratto, rispetto agli altri quadri, che sono più, diciamo, fotografie quasi, no? Di immagini. L'astratto, invece, Kandinsky, non so se conoscete come artista, che è stato un artista per me meraviglioso, è riuscito a mettere in un quadro tutto. Cioè, tutto quello che uno ha in testa. Quindi, fondamentalmente, quello che vede è quello che ha in testa. Quindi, il quadro viene riempito. Infatti, quei puntini, cioè, lui poi ha fatto un libro molto bello, che parla, insomma, del simbolismo, no? Del simbolo, ogni cosa, ogni punto, ogni virgole. Cioè, perché uno dice l'astratto è una stupidaggine. Per arrivare a fare un quadro astratto, ci vuole tantissima esperienza. E lui, in un quadro, che è piccolo, ci mette il mondo, la vita, tutto. Quindi, diciamo che la poesia è proprio questo. Che in quel pezzo, che dura poco, devi riuscire a mettere tutto. E non è facile. Quindi diventa una sorta, diciamo, di spina dorsale, no? Cioè, è una spina dorsale dell'umanità. Ecco, la poesia, per me. Anche perché ho dei dolori alla spina dorsale. Quindi, è una spina dorsale, proprio. Ah, sì, eh. Vedo che sei preso sempre da qualsiasi tipo di attività. È il radio adesso, perché lui conduce questa radio. E tu farai parte della mia radio, lo sai. Perché iniziamo una nuova stagione. E diciamo che la mia radio, in un anno, ha fatto un milione di podcast nel mondo. Quindi, chiaramente, però, ho chiamato anche ho chiamato anche altra gente, quindi siamo tanti. Prima ero da solo, quindi solo. Sono riuscito a fare tanti numeri. Ma per la passione della radio, per la passione della poesia. Poi, ultimamente, se andate a scaricare, sapete, RCN, Radio Casa Nicolassi... No, perché è nata in un momento storico. Cioè, nel senso, uno dei momenti più brutti della nostra umanità, ossia la pandemia. Io non l'ho vissuta la Seconda Guerra Mondiale, come i miei. Noi abbiamo vissuto questa pandemia. E quindi, stavi a casa, non sapevi cosa fare. E io ho aperto questa stringa radiofonica, la quale stringa radiofonica mi ha portato tanta soddisfazione per cercare anche di alietare le persone che stavano in casa e cercare di mandare della buona musica che io penso che è buona musica. Poi, alla fine, io non sono nessuno. Però, rispetto agli ascolti, qualcosa è successo. Ritornando alla poesia, prego. Non mi va di parlare. Al di là di quello che scrive, che è fantastico e ho sentito sempre forti vibrazioni e risonanze, poi, anche nelle cose che nel mio piccolo ho cercato anche di spiegare. Ma poi, cioè, la sua voce, la sua interpretazione, avendo un background da attore, da speaker... Vabbè. ...quanti altri lavori fatti. Però, anche l'interpretazione, quanto poi pesa su queste parole? Cioè, Alessandro, già con questo graffiato, con questa voce, è un vulcano, no? Quindi, da quella semplice parola, già la sua intenzione dà un significato. E poi, ogni ascoltatore, ogni persona, come abbiamo già detto giorni fa, dà il proprio significato alla poesia, giusto? Attraverso il suo vissuto. Condividi il significato della poesia? Sì, la poesia, diciamo che, guarda, è anche un modo per mettere in mostra o far uscire fuori quello che uno ha dentro, no? Cercando di farlo fruire a un pubblico che riesce a percepirlo, perché non è facile la poesia. La poesia potrebbe essere anche tre parole e sono finite lì, no? Cioè, nel senso che comunque la gente... Il problema di questa, purtroppo, io ieri sentivo Raiz degli Alman Gretta, dice che oggi come oggi non c'è più la bellezza di prendere, che ne so, scegli un disco e ti fai i soldi per andarlo a comprare. È una cosa, capito, fisica, che tu, cioè, che lo partecipi. Oggi anche la poesia era bella uguale, andavi in libreria, è uscito il libro di bellezza, mettiamo, o al limite di... Andavi lì, eri contento, lo compravi. Era quasi una cosa che tu tocchi... È come se tocchi chi ha la scritta. E purtroppo queste cose sono passate. Io sono antico, fondamentalmente, e quindi diciamo che a me manca il profumo della carta, la carta che quel poeta o quello scrittore è stato lì, perché c'è tantissimo sacrificio nel fare queste cose. Quindi diciamo che magari ritorniamo a scrivere proprio il... Cioè, io sto dicendo poi in generale, perché poi alla fine ci sono queste grosse produzioni di libri, no? Questi grandi editori che potrebbero veramente dare modo a tutti di stampare dei libri senza pagare e rifar funzionare quella parte meravigliosa che è il cartaceo e che ti dà quel senso di sto toccando l'artista oltre che lo sto leggendo, che è molto bella questa cosa, no? Il fatto di... Uguale, visto anche nella musica, uguale in quasi tutto. Fai un brano, è un fast food. Finisce e te lo perdi. Poi rimangono delle frasi perché vengono copiate su internet. Invece è bello perché quello che scrivo io è anche quello che pensa il tuo amico, quello che pensi tu. E quello che scrivi tu lo penso anche io. Quindi diventa quasi diventa un prodotto di tutti perché dice guarda, io ci ho pensato però lui è riuscito a scriverlo. Che bella sta cosa, no? Nel senso... Invece, che ne so, lui fa un'altra cosa che... Cioè, condivisione la poesia come la musica. È condividere i propri sentimenti. Non è mai alzarsi e sentirsi chissà chi. Come ridico... Questo è il nostro piccolo di promuovere con Umberto, cioè di dare voce, cioè dare anche attraverso uno strumento social come Instagram o Facebook, dargli il giusto valore, cioè essere strumento per veramente far emergere quello che spesso si soffoca. Perché, come spesso dico, le persone hanno un po' paura del giudizio. Quindi, anche se dentro magari studiscono un mondo poetico, un mondo artistico, si vergognano di esprimere. È una cosa che io vorrei smantellare. Veramente, siamo un po' ribelli a questo punto di vista. Facciamo una evoluzione veramente artistica. Proprio per questo io ho oggi voluto che partecipassi Alessandro perché quello che lui scrive secondo me è un grande stimolo per i ragazzi, per le persone adulte. come a dire, io mi metto in gioco al di là di tutto, al di là della pandemia, al di là di tutto quello che è successo, io... Allora... 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 Saranno incrociate dopo questa introduzione di qualche... Ti voglio... Vabbè, no, ti volevo dire proprio perché comunque dietro una voce, dietro una musica c'è un vissuto, ok? C'è un vissuto importante, no? che tanta gente non sa. Per esempio, non so se conosci questo artista, chi è? Sì, come prima impressione non saprei risponderti, Alessandro. Ci sta facendo un quiz, ci sta... Vabbè, ma noi siamo pure giovani, Alessandro. Però l'abbiamo conosciuto, sì. Allora... Allora, Pino Mango, l'artista che faceva musica, che c'è una voce meravigliosa, lui era un poeta, pochi lo sanno, e ha scritto un libro di una bellezza rara. Le sue canzoni erano poesie scritte da lui e sono diventate canzoni. Ecco perché è stato sempre un po' un cantante di nicchia. questo non è che voglio voglio dire di Mango, ma ce ne sono tanti che non sanno che dietro un artista, artista musicale, che deve stare nel mainstream certe volte, quindi chiaramente deve fare successo per guadagnare soldi, c'è il sacrificio dell'arte, perché l'arte è sacrificio, e il sacrificio è sacro, capito? Quindi tutti siamo artisti, tutti, tutti siamo artisti, abbiamo un potenziale, solo che bisogna dare, come dai tempo a stare con la tua compagna, come dai tempo a cucinare, devi dare tempo anche a mangiare, mangiare te, cioè te, conoscerti, quindi l'arte, cioè devi dare tempo anche a questo, stare insieme, perché se ti allontani non trovi. buon alimento dell'anima, anche scelte ponderate in quello che si risolta e in quello che si vive, quindi anche l'anima. Guarda, non conoscendoti, Alessandro, tu hai toccato dei punti che anche nella mia considerazione di tutto quello che è il mondo dell'arte, della letteratura e della poesia sono fondamentali, cioè tu parlavi della carta come qualcosa di vivo, è anche un po' la mia disconnessione più che altro profonda, intima a quello che è il mondo digitale, abbiamo voluto impiegare in questo momento proprio un po' anche per nobilitarlo, ma trovo che il fascino della carta ed ecco anche il motivo principale per cui io tendo a scrivere in mano, magari siamo su una carta come c'è la carta che aveva un vissuto che abbiamo noi e questo credo che sia dimensione fondamentale dell'arte, oltre al fatto di lasciare una traccia, abbiamo in pausa Alessandro in questo momento c'è una pausa di connessione si sta muovendo troppo Alessandro cerca di stare un pochino più stabile così la connessione rimane e non ti perdiamo perché qui siamo tutti in frenesia per ascoltare una delle tue poesie assolutamente aspettando che Alessandro riesca a connettersi ci fai di vedere il tuo scritto così a mano assolutamente perché secondo me già tutto questo veramente è un messaggio importante guardate qui questo impiastro di impiostro questo impiastro continuo Alessandro intanto posso richiederti di mandare la richiesta di partecipazione perché è saltata la connessione intanto questo è un esempio di grafia ecco questo è un po' l'impronta su carta di pensieri di esperienze perché poi il fatto di scrivere la scrittura è uno specchio oppure secondo te delle volte nella scrittura può esserci anche un qualcosa di così distante da noi allora io dico sempre Proust ha detto una delle cose più giuste di tutte quante che l'io narrante il libro è sempre diverso dall'autore io dico anche che c'è un profondo coinvolgimento perché sarebbe stupito dirlo ma l'autore e l'io narrante dentro un testo sono due cose profondamente diverse lui faceva ovviamente non prendiamoci in giro anche magari in un'ottica di protezione perché il suo grande romanzo che è fondamentalmente la ricerca del tempo perduto aveva delle implicazioni molto profonde insomma parlare del tema dell'omosessualità sia maschile che femminile era qualcosa di pesante a inizio novecento lo è ancora oggi quindi figurarsi un secolo addietro o ancora prima quindi insomma bisognava un po' nascondersi ma la era saltata vai vai no no stavo sentendo Proust che è importante mi interessa sì dicevo praticamente Proust diceva che c'è una differenza profonda tra l'autore e quello che è l'io narrante che sono due soggetti profondamente distinti lui lo faceva io credo modestamente e le mie conoscenze sono minime sull'argomento perché sono minime non sono uno specialista ma ho avuto la fortuna di avere un grande professore all'università Alessandro Piperno che di recente ha pubblicato il suo nuovo libro ed è un grande appassionato di Proust e lui ne parlava con occhi sognanti però l'arrante e l'autore sono due io dico una cosa che lo diceva anche Dottogieschi comunque Dottogieschi anche diceva la stessa cosa è come se c'è una trasposizione tra l'io tuo e quello che scrivi cioè non sei te è un'altra persona infatti tante volte andiamo a rileggere le cose che scriviamo di getto quello che è e dici ma sono io e sei te perché noi abbiamo tantissime sfaccettature che non conosciamo profondamente capito quindi è anche molto esempio della recitazione dove c'è questo grande dilemma del cuore della persona e del personaggio no? sì è vero è vero è vero quando mi capita di approcciarmi a personaggi che inizialmente dico no è totalmente distante da me però poi mi rende conto che quel personaggio come può essere una storia che scriviamo una poesia in realtà fa sempre parte del nostro mondo interiore che poi possa evolversi possa mutare tutto quanto ma come abbiamo detto siamo niente ma siamo anche tutto in realtà quindi allora il problema fondamentale per me dal punto di vista mio e rimane mio è il fatto di far conoscere quello che noi facciamo quindi c'è anche una piccola un piccolo egocentrismo che serve per cercare di metterci in evidenza questo è un problema che dovrebbe essere per me saltato capito cioè nel senso che la poesia è di tutti non è di nessuno è come un figlio c'è una domanda per te che ti scrivono perdonami se ti interrompo Alessandro scrive Fausto Alessandro quindi scrivere aiuta a conoscere se stessi e poi Carlo invece a mio modo di vedere siamo sempre noi ma è quella parte di noi che non conosciamo qualcosa di inerente l'ess quindi la figura di Heidegger mettiamo anche bravi Heidegger cioè lasciamo siamo oltre siamo oltre qui veramente diventa un simposio quasi allora io credo che conoscerci scrivendo è molto importante perché è molto intimo è intimo di solito quando si scrive al bagno al cesso come diceva Oscar Wilde quando tu esci fuori dal tuo habitat quindi dalla tua io adesso cerco di farlo fruibile esci fuori dal tuo mondo quindi dalla tua casa dal tuo bagno ti devi mettere la maschera per affrontare la vita quindi a parte la maschera ce la mettiamo per forza oggi però per dire è proprio un discorso che comunque il tuo intimo è il tuo intimo e poi se ti va di farlo conoscere agli altri è una lama a doppio taglio perché comunque sia riesce a dare dei punti alle persone che ascoltano quello che tu scrivi o leggono quello che tu scrivi per capirti meglio quindi poi ecco qui subentra quello che ha detto prima Benedetta il fatto di quasi il giudicare quindi cercare di giudicare una persona perché uno ha paura se recita o se scrivi qualche cosa di essere giudicato e questa è una grandissima stronzata scusate il termine forte perché il giudizio non è da una persona a me non mi interessa di nessuno io scrivo a prescindere è come amare allora io amo quella persona perché piace a tutti no io amo perché non lo so capito cioè è un po' il concetto base per me fa anche il concetto della condivisione dice che uscire dal nostro bagno è anche un concetto che ripeteva e che è ripetuto in un libro scritto proprio quest'anno pubblicato quest'anno da Gallimberti non ricordo il titolo e me ne dispiace ma noi dobbiamo recuperare una dimensione intimità questi social che cosa hanno fatto prima di tutto hanno rotto quell'intimità che noi non abbiamo tutto è pubblico tutto è in piazza tutto è fuori tutto è usato come una spada invece dovremmo essere un pizzico più egoisti per volere più bene noi e anche al mondo per poter comprendere chi abbiamo davvero davanti e alla fine tenendoci una parte del nostro mondo stretta vicino decidiamo noi a chi donarla e lì poi che si ricrea una dimensione di rapporto più profondo interpersonale diverso da quella che c'è oggi dove tutti sono amici ma poi alla fine siamo una fiera della vanità di maschere che vanno sorridenti e che poi alla fine vengono spedite poi questa cosa però perdonami ha rovinato un po' anche l'umanità nel senso che comunque sia adesso non sai più dove guardare nel senso che prima avevi dei punti di riferimento adesso i punti di riferimento non lo so dove sono non esistono o al limite te li devi creare da solo forse questo è il momento giusto per la ripartenza tra virgolette e cercare quell'intimo che è stato perso con la pornografia fondamentalmente perché poi diventa pornografia non dico solo a livello erotico proprio pornografia in generale cioè l'entrare troppo dentro la casa il grande fratello tutte cose tutte cose che hanno tolto quel velo bellissimo che esisteva tanti anni fa cioè il fatto della non lo so della ricerca di non sapere quello che che c'è è proprio bello l'ignoto esatto un poeta contemporaneo che leggo spesso e volentieri le sue poesie che si chiama Franco Armidio in cui lui narra e spiega questo concetto della riservatezza cioè di un qualcosa di intimo da preservare da consacrare no? come quei luoghi in assoluto che vediamo e diamo contati dove in realtà sono proprio il tesoro quel tesoro nascosto che bisogna avere la qualità e la possibilità di guardare con altri occhi esatto Benedetta perché comunque è fondamentale la curiosità cioè il fatto che tu mi dai per scontato ciò che perché poi noi purtroppo lavoriamo con gli occhi no? quindi io dovrei dovrei leggere al buio ok? perché la cosa più bella è proprio quella no? il fatto di non sapere è come una una dark room buia dove chiaramente non vieni non vieni diciamo attirato solo dall'immagine tu devi essere attirato dalle parole che scrive quell'artista e ti dà l'immagine lui di quello che è non tanto perché tu c'hai il labbro rifatto o la cosa carina o c'hai la vocina capito impostata è proprio quello il problema ritornare indietro e cercare di prendere non rovinando quello che giustamente diciamo il web ha portato come in questo momento stiamo comunicando no? però di di ritornare che ne so un po' a non nascondersi ma a far uscire fuori solamente le cose che chiaramente fanno bene capito? cioè non solamente le cose che perché la maggior parte delle cose che noi viviamo non servono a niente se andiamo a vedere Confucio ecco visto che tu cioè Confucio ma prendo proprio canali ragazzi che qui non Confucio diceva una cosa importante a un uomo non è che serve il cellulare il cellulare che serve? cioè è proprio un incontro poetico dove ognuno di noi può discorrere ma cioè no Confucio diceva come i grandi indiani gli indios quindi non so se voi conoscere la cultura indiana che è meravigliosa dicevano serve un posto per ripararci un giaciglio per dormire trovare del cibo stare con una donna mettiti caso e avere degli amici per confrontarsi poi no? cioè il problema è proprio questo tutto il resto è superfluo cioè il discorso è proprio questo a sembrare note poetiche io mi sento scusate in questo momento di fare un piccolo elogio a un concetto poetico da non dimenticare perché io ho sentito rimbombare nell'aria una parola quasi antica negligenza abbiamo ogni giorno la versione ballottati incredili e assorti nei pensieri che ci distraggono la mente cambiamo un basar sole a uno sbarzo di temperatura cambiamo con la pioggia con le magagne che ci mancano il cuore un'artalena continua frenesia e sto termine pieno di porvere di cui vi parlavo non è mica passato di moda è l'atteggiamento tipico di chi dimora nella passiva questi sono aggrappati alla materia e non reggono la potta all'andatura di sta vita camminando a testa basso è l'ora di usci dar guscio e illumina tutte le strade questo dal scrivo nel silenzio bellissimo no no carino carino anche perché tu sei molto popolare sotto questo punto di vista quindi arrivi diretta al dunque capito esatto è anche io ti conosco bene sei una persona molto molto dinamica quindi fondamentalmente anche il tuo modo di scrivere il tuo modo di comunicare è molto dinamico e popolare tu vuoi arrivare dove si arriva subito che è importante tra virgolette io 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 sono 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 un po' sono un po' sono un po' diverso da te capito cioè nel senso che già qui è passata più di un'ora ragazzi noi chiacchieriamo capito già abbiamo iniziato Ghiumberto che abbiamo una chiacchiera ci abbiamo messo oggi Nicolassi però mi capirai ma vabbè ma a me fa piacere oggi è anche un giorno commemorativo per me molto importante cioè nel senso che comunque nella vita purtroppo si perdono delle persone no? delle persone care con le quali tu hai fatto un viaggio no? tra cui diciamo le persone di famiglia no? oggi il ricordo di mia sorella che dodici anni fa se n'è andata giovanissima e quindi diciamo che la memoria allora ci sono due cose fondamentali che uno deve ricordare dal punto sempre di vista mio e che rimane di Alessandro onestà intellettuale e memoria storica sono due cose fondamentali perché se siamo quello che siamo è grazie anche agli altri che ci hanno fatto arrivare a questo punto quindi non dimenticare mai quelli che perché tutti quanti tendono a cercare di togliere le cose brutte ma non è brutto se uno va via o muore diciamo tra virgolette perché qui potrei aprire proprio veramente i capitoli di Cesare Pavese possiamo parlare fino a dopo domani riusciamo veramente verrà la morte e avrai i tuoi occhi cioè capito cioè nel senso nel senso che possiamo andare e lui sa benissimo di cosa parlo e quindi questo è un giorno un po' particolare per me però io siccome a Benedetta gli voglio molto bene è una persona che stimo stimo proprio come persona al di fuori della bellezza che la bellezza interna non è esterna per me quindi niente io sono contento di aver partecipato con voi anzi il ragazzo lo vedo molto mi sono dimenticato il tuo nome Umberto Umberto? Sì Umberto Eco eh cioè così tanto per stare nella cosa tu mi hai chiesto Federica sì Federica scusami Benedetta mi hai chiesto una pillola di dire qualcosa sì ne saremo su quale argomento perché abbiamo parlato della morte fino adesso non vuoi essere stato il tema della giornata sì prima di connetterci con conti altri intervento riguardo intervento su quello che è il concetto di morte tra la nostra cultura ed altre culture la concezione no io guarda di poesie ne ho scritte penso 2000 ho pubblicato anche un libro che si chiama L'uomo del lago che trovate su Amazon però introspettive cose io invece eh della morte potrei potrei invece parlare di una ehm di una poesia che proprio che dà il titolo al libro e che comunque sia eh fa riflettere un pochino su sul fatto della vita no? della diciamo per me dal punto di vista mio poi dipende perché io dovrei aprire perché per vedere per cercare le poesie alcune le ricordo a memoria alcune purtroppo ahimè non me le ricordo bene quindi non non è facile quindi dovrei dovrei trovarla però quella che mi era venuta in mente era il fatto eh ci sono due poesie che a me diciamo che mi rappresentano e rappresentano anche quello che ho detto fino adesso cioè nel senso che comunque mi rappresentano perché anche se l'ho scritta un po' di tempo fa ancora le sento addosso no? cioè nel senso che comunque quindi vuol dire che quello che ho scritto perché tante cose che ho scritto non le condivido adesso invece tante cose che ho scritto me le ricordo e le condivido e quindi diciamo che ancora quindi fanno parte di me e sono eterne dentro di me tra virgolette ma freme faccia sentiste voi dire ma che qui oggi abbiamo parlato 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 e ci siamo dimenticati però di leggerli assolutamente anzi preparali in altra allora allora ehm guarda è lunghissima però abbastanza abbastanza forte una si chiama il concetto dell'amore che poi chiaramente ritorna nel nel discorso questo ero ero preso da Ermanesse il periodo no? Ermanessiano e la poesia fa qui in questo modo cioè nel senso io poi meglio leggerla perché uno poi la capisce di più fa stirando il capo a me sovrano distingo l'arte dell'amore godendo di infiltrazioni trasparenti vive il canto che cantica come il passo frettoloso di mille peccati vive il solletico che solletica nel mezzo del mio cuore triste rivesto l'intorno si è calcate non uguali ma simili mesto d'incanto la estordita da facili lacrime sommo non risale il facile amore che per la strada scruta cinguettante assordante rimane appeso alle filande create dal passato l'amore è vivo viva l'amore che amoreggia senza possedere senza godere senza cambiare questo è l'amore diciamo diciamo che è il concetto dell'assoluto poi il fatto dell'amore in generale è come le scarpe ti compri le scarpe e già le hai rovinate il giorno dopo già non ti interessano più quello non lo puoi toccare è come il sole e poi per concludere ve ne dico un'altra che è molto più breve è molto più forte rispetto a questa che riguarda anche la mia vita soprattutto il mio modo di essere il mio modo di essere che comunque è condivisibile con tutti perché poi alla fine siamo un po' tutti randaggi abbiamo anche noi dei momenti di solitudine fortissima delle chiusure interiori anche la paura di stare da soli è proprio quella che ti fa poi ti dà il coraggio di stare da solo e c'è una poesia che ho scritto che si chiama come fossi un gatto un gatto come elemento come animale e fa come fossi un gatto lecco l'universo cercando il mio cibo sviando dalle ombre sonnecchiando nelle albe combattendo le solitudini con coraggio suicida bevo liquidi terreni che la marea distilla senza farmi accorgere e poi mi sgrasso le fatiche che l'amor comporta ok grazie 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 molto grazie della vostra della vostra in questa giornata un po' così particolare per me e niente ci sentiamo vi continuo a seguire chiamate altre persone anche perché sennò diventerebbe Nicolà Siscio e a me non è che piace molto poi saremo ben contento di averti come ospite ancora ovviamente daremo spazio a tutti quanti quelli che ce lo chiederanno ma tu riserverai avrai sempre un posto diciamo di primo piano nel nostro cuore e nelle nostre dirette va bene grazie Umberto vi volevo dire che comunque io farò insieme a Benedetta spero al più presto queste trasmissioni sulla radio proprio parlando di poesia e arte in generale e io vorrei che lei vabbè poi dopo ci sentiamo nel nostro gruppo che è meglio e vorrei che partecipassi anche Umberto magari almeno riusciamo a fare qualche cosa di importante visto che comunque arriviamo in tutto il mondo e quindi è una cosa bella forte le torna gli scrivono quindi già i tuoi fan no vabbè ma no i fan i fan o i come si dice gli influencer eccetera noi ci dobbiamo toccare le mani esistono per questo non esistono solamente per guardarci capito esiste il contatto il contatto è la cosa più bella del mondo un abbraccio è poesia un bacio è poesia marci in questo momento si è proprio connesso anche meta promotion che sono testate giornalistiche che spesso mi hanno seduito in diversi progetti spero che proprio perché ci state ascoltando che anche voi condividete questa volontà una cosa una cosa ti voglio dire una cosa ma tu l'hai salvato il video dai quindi cerchiamo il testo scusa Alessandro dicevi avete salvato il video dico si lo salviamo sempre lo pubblichiamo sull'IGTV quindi saranno sempre a disposizione Alessandro non sa che è mosti IGTV no 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 lo so però io se voi diciamo registrate il video me lo mandate io lo mando in podcast sulla radio come no molto volentieri veramente molto volentieri cioè lo mando in diretta dappertutto quindi diventa poi una cosa fruibile per tante persone che potrebbe essere anche un modo per farli uscire fuori per farli muovere e per farli uscire da questa da questo diciamo da questa corazza che si sono fatti diciamo video diciamo multimedia e far uscire fuori l'anima davvero non più questa barriera che si mettono davanti per cercare di essere quello che non sono ok attanto ci terremo in contatto anche tramite Benedetta e ti manderemo quanto prima i video e tutte quante le dirette perché è una cosa che a noi interessa tantissimo quello che è importante è condividere se voi se voi volete io la condivido sulla mia radio mettendo delle musiche delle cose cercando di sistemarla insomma di farla più professionale tra virgolette poi la professionalità non esiste come non esiste nulla capito esistiamo ma non esistiamo la pioggia e penso che a breve dovremo concludere la situazione io intanto ti mando un bacio un abbraccio grazie ok per aver partecipato a questo ormai diventato non caffè ma pomeriggio poetico chiamiamolo così alla prossima io concluderei con una poesia di Umberto sicuramente una bella poesia ricordando a chi ci sta ascoltando che abbiamo creato appunto questo nuovo profilo instagram che si chiama Peppo Etico dove tentiamo un tentativo di coinvolgere vari artisti che in prima si cercano di manifestare l'arte e promuoverla non solo nel contesto poetico ma in tutto ciò che gira intorno al cuore pulsante dell'arte quindi chiunque di voi vuole condividere le proprie poesie video quello che volete abbiamo questo profilo caffè poetico Umberto sei pronto? sono prontissimo hai respirato bene hai preso sei nella giusta atmosfera quindi dietro abbiamo sempre una scenografia particolare Umberto a te la voce flagello dei tempi andati questo tempo che scorre galoppa senza cosa che non sia fine di tutto e sagra d'oblio non so più nemmeno cosa fosse la calma delle sabbie sospese artificio sovrumano di anime prese come pesci in rete in faust e navigare per acque astrali senza impedimento o altro dal peso dei pensieri stellati di oscura malinconia mi volgo e mi pento a ogni passo incerto verso il tramonto e osservo il trapasso del sangue nel blu asfissia celeste orfana di grida e resto fisso con le spalle buie a tingermi di ultimi rossori crogiolandomi nell'oscurità che avanza divenendo io notte scherno folle per la luce sopita vago incessante in quest'aria solida compatta figlia del nero universo e solo lebbrezza accompagna che sale con le tenebre terrene ambrosia di dei contrari fari di buio nel giorno mortale canti suadenti di essenze notture che labile confine a questo orizzonte ultima meta di menti votate al limite estremo del proprio sguardo e cosa sono in realtà se non parte di visione affrancato dal visibile immerso nel cosmo coi pieti legati a queste pietre costretto a fissare solo da dentro l'immenso provante oltre un segmento cammino ancora a corto di forze risucchiate negli abissi da un palloro orientale non volgo più sguardi che a una terra spenta silenziosa astante di ogni mio pensiero in un attimo tremo di luce velata e gli occhi stanchi si involano verso il gelo del cielo e tu non ci sei e io sospiro alla luna bella perfetto io sospiro alla luna grande Umberto per concludere poi ricordiamo che metteremo questi testi non lo diciamo poi non lo so quando faremo questa ma lo faremo lo facciamo mettiamo tutti questi testi su Instagram e per concludere mi hai ricordato un po' questo concetto della tua malinconia questa malinconia che spesso ci perbate io penso che scrissi questa poesia sempre così un po' in dialetto quella genuinità di cui parlava Alessandro sulla malinconia vai si scrive meglio una malinconia chissà perché vanno semo tristi si aggrappava alle parole a una canzone pure a Dio qualcuno è una bottiglia e qualcun altro che sa cosa troviamo una risposta dall'esterno da qualcosa di distante per non sentisse fragile queste strategie ci hanno mira breve perché è tutta un'illusione è una pieta del momento il cuore tuo già lo sa riuscita a sto labirinto non è che se re ci dà felicità ci tocca affrontarlo sto male che ci turba e guardarlo da vicino ma senza sputagli in faccia perché la cenere è vita è la più intima realtà per conosce chi siamo veramente e la forza che ci aveva e quanto siamo bravi a rifiore è sta cura dell'anima adacci nuovi occhi adacci le speranze e ce li dà vent'altra forse questa mi sembra anche di averla già letta qui però ormai potrebbe vabbè ma ormai le poesie possono anche perché poi succede così il libro non tutti ricordano quindi oggi magari con un'interpretazione sentita proprio da da quello che hai letto te e dai oggi un'ora e mezza quasi oggi è stata una bella diretta impegnativa ragazzi penso nella prossima diretta magari potrò azzardare a leggere anche un passo del mio romanzo visto che ormai ci siamo all'unica insomma testiamo subito gli animi e non mi resta che darvi un caloroso saluto a tutti quanti sì tra l'altro scriveteci scrivete chi vuole partecipare a queste dirette perché più siamo meglio l'unione fa forza chi più ne ha più ne metta tutti per uno uno per tutti chi vuole ecco veramente siamo lieti perché come ripeto non è solo uno spazio mio di Umberto cioè qui noi stiamo facendo un po' da tre d'union tra vari artisti poeti emergenti con esperienze vissute anche Daniel che ci sta guardando Camilla Camilla ti aspettiamo io non vedo l'ora di sentire anche qualche cosa che posso assolutamente abbiamo già avuto molte richieste di partecipazione tra l'altro miei ex colleghi dell'università che adesso sono professori e quindi perché no magari fare un bellissimo discorso sulla letteratura e la poesia anglo-americana inclusa con quella francese che è un po' quello che era la mia area di specializzazione insomma quindi magari un discorso su Poe e Baudelaire Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire Baudelaire oppure buttarci sul mondo della letteratura e della poesia russa con la bravissima Camilla e l'amico Dragos che tu conoscerai a breve o ancora di più immergerci nel mondo della letteratura ispano-americana con la bravissima Beatrice Mani che oltre a essere un anglista insomma conosce molto molto bene Speriamo ecco di trovare e capire se questo orario è favorevole per tutti quanti per i nostri ascoltatori o magari anzi se scrivete anche nei commenti quale può essere magari il momento giusto una giornata ideale dove anche voi siete un pochino più liberi e stavamo pensando anche non so un orario tardo pomeriggio no? Sì pensavamo il lunedì di farla nel tardo pomeriggio prima serata per permettere a tutti di accedere con più facilità e mantenere il venerdì all'incirca in questa fascia oraria per comodità perché sappiamo che insomma alla fine delle fatiche di una settimana dire di no allo spritz all'aperitivo con gli amici può essere complicato insomma detto ciò mi è venuta voglia di spritz no è 4 ancora presto 4 e 20 quindi vi chiediamo di interagire spesso volentieri quanto volete con la pagina tenteremo di stare al passo con tutte quante le vostre richieste opinioni sono un po' dei geni mi perdo tra le nuvole tra le passeggiate mi dimentico dei social però dai vedi in due forse riusciamo a gestire sì in due sicuramente quindi commentate dateci delle idee mandateci dei feed e informateci su tutti quelli che sono i vostri desideri quindi già abbiamo la conferma di Camilla possiamo progettare questo intervento sulla letteratura russa a gamba tesa ragazzi grazie di tutto alla prossima speriamo poi di trasportare questo video anche sul proprio assolutamente ma lo faremo a brevissimo e un saluto un bacio e un abbraccio dai vostri Benedetta Bataracco è bellissimo ho sognato una vita di dirlo dai allora te lo concedo vai benedetta Bataracco e un bel tuo camminino grazie